Un calabrese su due crede nel valore economico del mattone, anche se, rispetto al passato, ammette di nutrire molte paure. Lo rilevo nella ricerca dell'osservatorio di una nota assicurazione nazionale. I timori maggiori, espressi dal 42%, riguardano l'incertezza su tasse e cambiamenti normativi, ma anche la fine di egevolazioni e detrazioni. Pesano anche le potenziali fluttuazioni del mercato immobiliare. Alla 42%, il possibile peggioramento del contesto ambientale per degrado, interventi edilizi, criminalità o inquinamento al 40% e per eventi catastrofici al 36%. Secondo i dati emersi dalla ricerca, poi proprietà batte affitto 1 a 0. L'86% degli intervistati, infatti, preferisce abitare in una casa di proprietà. Il 38% dei calabresi, in particolare, investirebbe nella sua stessa città, il 17% in un piccolo centro cittadino e il 13% in campagna. A fronte di questo, il 26% dei calabresi non crede per niente nel valore del mattone come bene di investimento e il 14% preferirebbe l'affitto alla proprietà. Beh, è proprio vero che i tempi cambiano indiscutibilmente.